3 CD che sono stati realizzati tutti con la Royal Cine Armonico Orchestra che è un'orchestra, magari dico due parole perché è interessante oltre a fare il repertorio classico, Beethoven, Mozart, Schumann eccetera ha anche collaborato con musicisti come Beatles, Queen, Pink Floyd eccetera questo cosa vuol dire? Che ne fa un'orchestra veramente aperta aperta come concezione del suono io a volte dico che è un'orchestra post-elettronica perché vibrano poco è quasi un'orchestra che sembra una tastiera dico tastiera perché l'elettronica da un certo punto in poi ci ha abituato a una musica così proprio anche impersonale, Stravinsky diceva che i vibrati negli archi e nei cantanti sono delle cose, non uso parole, comunque non sono così belli, interessanti grazie a tutti grazie a tutti